Sono state le manovre del pilota Gianmarco Zavoli a far precipitare l'elicottero del 118 caduto sulle pendici del Monte Cefalone a Campo Felice il 24 gennaio dello scorso anno. Per questo il GIP del Tribunale di L'Aquila, Guendelina Buccella, ha accolto la richiesta di archiviazione del caso avanzata dal PM Simonetta Ceccarelli. Il GIP, motivando la sua decisione, ha scritto che le azioni dello Zavoli nella scelta di proseguire il volo, nonostante la scarsa visibilità e l'omesso utilizzo della strumentazione in dotazione all'aereo mobile e la manovra effettuata dopo aver perso il contatto con il suolo, sono state da sole sufficienti a determinare l'evento catastrofico. Azioni, continua il magistrato, risultate gravemente colpose per aver violato prescrizioni imposte dai regolamenti vigenti, oltre che dal manuale operativo della compagnia. Parole queste che chiudono la vicenda giudiziaria dopo la discussione relativa all'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dai familiari delle vittime, rappresentate dagli avvocati Gennaro Lettieri ed Amedeo Ciuffetelli. Nello schianto avvenuto durante un'operazione di soccorso di uno sciatore ferito sulle piste da sci di Campo Felice, morirono tutti gli occupanti del velivolo. Walter Bucci, medico rianimatore del 118, Davide De Carolis, tecnico del soccorso alpino, Giuseppe Serpetti, infermiere del 118, Mario Matrella, tecnico verricellista, Gianmarco Zavoli, pilota, ed Ettore Palanca, lo sciatore soccorso a causa di una frattura. La decisione del GIP archivia dunque la posizione di Giulio Fini, Maurizio Lebet, Gianfranco Molina, Roberto Noceto, Piero Trabucchi e Alfonso Friolo, a vario titolo ai vertici della società Inaer, che ha fornito mezzi e pilota al 118 per le attività di soccorso. Tutti erano indagati per disastro aviatorio e omicidio colposo. Il giudice per le indagini preliminari per la sua decisione si è basato sulle valutazioni di diversi tecnici, primo fra tutti Stefano Benassi, esperto mondiale di elicotteri e per questo consulente in diversi disastri aerei in Italia. Secondo i tecnici la tragedia è da debitarsi dunque al solo pilota che non sarebbe dovuto ripartire da Campo Felice dopo l'atterraggio o comunque avrebbe dovuto interrompere il volo e tornare alla base, anche perché nemmeno il volo radioassistito poteva essere utilizzato. Per il jeep Zavoli aveva tutti gli strumenti cognitivi e operativi per la valutazione del soccorso.